In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Continua la storia sacra. Tredicesimo episodio. Il profeta Giona. Il giusto Tobia. Il profeta Giona. Anche Giona apparteneva al regno di Israele. Alzati, gli disse il Signore, e va a Ninive. Va e predica a tutti che la loro malvagità è giunta fino a me. Ninive, la capitale dell'impero Assiro, nuotava nei peccati. Giona ebbe paura di andare fra quella gente idolatra e non ubbidì al Signore. Anziché imbarcarsi per Ninive, salì su una nave diretta a Tarso. Ma quando fu in alto mare, si scatenò una furiosa tempesta. I marinai, spaventatissimi, tirarono le sorti per sapere di chi fosse la colpa. La sorte cadde su Giona, che dormiva tranquillamente. Lo svegliarono, ed egli confessò il suo peccato. Buttato in mare, l'infelice profeta fu inghiottito da un grosso pesce. Dal ventre del pesce, egli innalzò a Dio il grido disperato del suo cuore. Il Signore ebbe pietà di lui e lo salvò. Dopo tre giorni, il pesce vomitò Giona sano e salvo sulla spiaggia di Ninive. Questa volta il profeta non sfuggì più il comando del Signore. Entrò in città e percorse tutte le sue vie, gridando, ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta. I Niniviti credettero in Dio. Il re stesso per primo scese dal trono, si vestì di sacco e si coprì di cenere. Ordinò che tutti, comprese le bestie, digiunassero e facessero penitenza per ottenere da Dio misericordia. E il Signore, visto come si erano convertiti della loro cattiva vita, ne ebbe compassione e li perdonò. Giona è una figura della risurrezione di Gesù Cristo. Come Giona stette tre giorni nel ventre del pesce, così Gesù rimarrà tre giorni in seno alla terra. Il giusto Tobia Tra gli israeliti condotti schiavi in Assiria c'era un uomo dal cuore retto di nome Tobia. Egli fu l'angelo consolatore dei poveri esoli che incoraggiava e aiutava con tutte le sue forze. raccoglieva perfino i cadaveri, gli nascondeva a casa sua e di notte li seppelliva. Una mattina, stanco del lavoro notturno, si appoggiò a un muro e si addormentò, ma cadde da un nido dello sterco caldo di rondine e lo fece diventare cieco. Tu facevi del bene e quale ricompensa ne hai avuto, gli dicevano i parenti. E Tobia non parlate così, perché noi siamo figli di santi. Un giorno Tobia chiamò a sé il giovane figliolo, gli disse di cercarsi un compagno e di andare con lui a riscuotere nella media una sommetta che aveva prestata anni prima, altrimenti sarebbero morti di fame. Un giovane bello e gentile si prestò ad accompagnare Tobiolo. Era l'arcangelo Raffaele. Fu un viaggio meraviglioso. L'angelo liberò Tobiolo dai pericoli. Gli fece prendere il fiele di un grosso pesce per guarire gli occhi del padre. Gli trovò una sposa pia e ricca. Gli ritirò i denari e lo ricondusse felice tra le braccia dei suoi vecchi genitori. La loro gioia fu immensa. Prima di partire da loro l'arcangelo rifiutò ogni ricompensa e disse Io sono uno dei sette spiriti che stanno davanti al Signore. Voi benedite Dio e narrate a tutti le sue meraviglie. Scolpiamo nel cuore le parole dell'arcangelo Raffaele Buona è la preghiera col digiuno e l'elemosina vale più dei tesori. Sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen